Arian, siamo qui di nuovo con Sansone. Tu ti sei fatto un'idea di che persona è lui? Sulla carta è un personaggio rinomato e anche uno dei più importanti, dei più potenti, però si fa fregare da sciocchezze e uno dei suoi più grandi puntodeboli è sulle donne. Ma mi piacerebbe sapere anche l'opinione di Don Mirko. Don Mirko? Ciao, 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 ciao. Dove siamo arrivati sulla vicenda di Sansone? È stato già tradito da una donna, mi pare, e adesso mi sa che la storia proseguirà con altri tradimenti. Ma ormai ci siamo fatti un'idea di Sansone come personaggio. È una persona che sulla carta la sua nascita, così annunciata, attesa, di carattere miracoloso, preannuncerebbe grandi azioni. Ma poi la sua vita risulta essere davvero una vita dove Sansone, più che la salvezza di Israele e le grandi questioni della politica di salvezza di Israele, è legato alla sua pancia, cioè alle sue viscere, a quello che lui desidera. E in particolare si fa avvinghiare, si lascia avvinghiare dalle donne. Una donna l'ho già tradito, vedremo oggi come Dalila, un altro suo grande amore, lo tradisce e lo condanna praticamente alla prigionia e poi alla morte. Siamo arrivati al capitolo 16 del Libro dei Giudici, con la conclusione della vicenda di Sansone. Dopo quel primo tentativo di sposare una donna filistea che è andato a male e dove Sansone ha già potuto scatenare la sua violenza su persone innocenti, Sansone si innamorò di un'altra donna che si chiamava Dalila. Allora i principi dei filistei andarono da lei, perché anche questa donna era dei filistei, e gli dissero seducilo, hanno capito che è il punto debole di Sansone, la donna, allora gli dicono seducilo e vedi da dove proviene la sua forza così grande e come potremmo prevalere su di lui per legarlo e domarlo. Ti daremo ciascuno 1100 cicli d'argento, diventerai ricchissima e a posto per tutta la tua vita, se ci riveli come poter prendere Sansone. Dalila allora si fa insistente e chiede a Sansone spiegami da dove viene la tua forza così grande e in che modo ti si potrebbe legare per domarti. E' interessante che Sansone a questo punto comincia a giocare con questa donna e cioè per ben tre volte le dice ma se voi poteste fare così allora io diventerai debole e potrei venire catturato. La prima volta Sansone dice se mi legate con sette corde d'arco fresche. La cosa viene fatta, viene organizzata da Dalila, ma Sansone naturalmente aveva giocato con lei e riesce a liberarsi. Un'altra volta la donna dice a Sansone dai dimmi in cosa sta la tua forza e Sansone questa volta la inganna e dice guarda se mi legate con funi nuove non ancora adoperate io diventerai debole e potreste catturarmi. Allora Dalila prende delle funi ma anche questa volta Sansone riesce a liberarsi. Per la terza volta la donna si rivolge a Sansone e gli dice ma insomma tu ti burli di me, mi prendi in giro, non è un vero amore il tuo verso di me, perché mi inganni, mi nascondi le cose? Ma di fatto Sansone gioca ancora con lei e le dice se tu tessessi le sette trecce della mia testa nell'ordito e le fissassi con il pettine del telaio io allora diventerei debole. Pensate che stranezza tessere le trecce della sua testa perché Sansone se vi ricordate è un nazireo quindi non potrà mai tagliare o avere tagliati i capelli e quindi ha praticamente capelli molto lunghi, molto folti, addirittura si può tessere insomma la sua capigliatura. È quello che cerca di fare Dalila ma anche questa volta si rende conto che Sansone si è burlato di lei. Arrivano praticamente i filistei ma Sansone riesce a liberarsi. Don, scusa ma ho visto che ricorre nel testo più volte il numero sette e ha un significato. Sì, il numero sette ricorre tante volte in questo brano e anche in altre pagine che abbiamo letto recentemente. È il numero della pienezza, della completezza. Quindi se tu mi legassi con sette corde d'arco, con sette funi nuove, se tu tessessi le sette trecce, cioè il simbolo proprio della completezza, della sicurezza, della potenza praticamente. Sette potremmo dire è il numero perfetto. Mette insieme la somma del quattro e del tre. Il quattro come elemento terrestre, solido, e il tre come elemento verticale. Quindi mette insieme la terra e il cielo. Il sette è il numero della pienezza. È un numero particolare presente nella Bibbia, sì. Ecco, a questo punto la donna davvero è umiliata e dice Notate che anche questa volta, come nell'altro caso, c'è una donna che tormenta così tanto Sansone con le sue parole, con le sue moine, con le sue lamentarie, con le sue lacrime, che Sansone alla fine non ce la fa più, non resiste e le rivela il segreto. Capite che anche questo è un punto molto ironico nel rapporto tra uomini e donne. Questo Sansone che viene tormentato, ma in maniera vincente, da questa Dalila. E allora risponde finalmente Sansone dicendo la verità. Guarda, dice, non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre. Se io venissi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me. Diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Finalmente Sansone ha rivelato la sua forza. La sua forza è nei capelli. Allora Dalila organizza finalmente un agguato a Sansone. Praticamente chiamò un uomo con Sansone addormentato, gli fece radere le sette trecce del capo. E così la forza se ne va, si ritira da Sansone, e Sansone è una persona debole. Ma scusa Don, come mai viene rappresentato il personaggio di Dalila come una donna che, tra virgolette ignobile, che tradisce il marito, l'amato, dopo che quest'ultimo l'ha prestato fiducia, ha aperto il suo cuore a lei. Sì, potrei dire così, diciamo, a una prima lettura, forse anche superficiale, di queste vicende. C'è qualcosa di disordinato in tutto quello che sta succedendo. È qualcosa che non va, che profondamente non va, che Sansone, che deve combattere per Israele contro i filistei, che scelga tra tutte le donne che poteva prendere tra gli israeliti sempre delle donne filistei. Questo forse è il grande peccato, il peccato originale di Sansone, che ama delle donne che appartengono al popolo dei nemici. E naturalmente queste donne sono più legate ai filistei, ai nemici di Israele, che legate a Sansone. E in un modo o nell'altro riescono a ottenere dalla stoltezza di Sansone, molto forte fisicamente, ma dal cervello davvero piccolo, riescono a ottenere sempre quello che vogliono. E quindi direi più che parlare della cattiveria di Dalila, mi permetterei di dire di parlare della stoltezza di Sansone, che appunto si lascia abbindolare, ammaliare da queste donne, che rimangono del popolo dei nemici e non persone amate, insomma, fino in fondo. E allora, ecco, di fronte a questo Sansone, che ha perso la capigliatura e che è in balia dei nemici, arrivano i filistei, i filistei ti sono addosso Sansone. Sansone si sveglia e pensa, ne uscirò come ogni altra volta e mi svincolerò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Qui, Sansone, svelando a Dalila il segreto della sua forza, era sicuro che il Signore non l'abbandonasse? Direi questo piuttosto, Tania. Direi che Sansone è stato tormentato così tanto dalla moglie, da Dalila, la donna amata, che le ha rivelato questo segreto e forse non si è neanche chiesto ma perché questa donna mi chiede il segreto. La donna l'ha messa sul piano personale, cioè noi stiamo insieme, non può essere che io non conosca tutto di te. Non ha fatto Sansone il passaggio nel dire ma perché mi chiede queste cose? Perché la donna vuole rivelare al suo popolo dei filistei il segreto della forza di Sansone per neutralizzarlo. Ecco, quindi anche in questo caso è questa la questione. Il Signore si era ritirato da lui, in realtà è tutta colpa proprio delle scelte sbagliate di Sansone, delle persone di cui si è circondato Sansone. Quindi finalmente il nostro supereroe viene catturato, i filistei lo presero e gli cavarono gli occhi. Viene acceccato, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con una doppia catena di bronzo ed egli dovette girare la macina nella prigione, come gli animali che vengono legati alle macine e continuano tutto il giorno a girare, bendati, naturalmente per non diventare matti, ma lui è accecato e fa questo lavoro di fatica alla macina dei filistei. Cosa succede nel frattempo? Nel frattempo la capigliatura che gli avevano rasata ricominciava a crescere. E quindi cosa succede? E siamo ormai arrivati praticamente alla fine della vicenda di Sansone. A un certo punto i filistei vogliono fare una grande festa e dicono il nostro Dio ci ha messo nelle mani Sansone, nostro nemico. E quindi in questa festa vogliono sfruttare Sansone, umiliarlo, Sansone ormai sembra innocuo, è incatenato, è cieco e quindi sembra non poter essere più un pericolo. Vogliono che Sansone faccia il buffone alla loro presenza e quindi fecero uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a far giochi alla loro presenza. Poi lo fecero stare tra le colonne di questo loro palazzo dove c'era questa festa. Sansone ha una ultima intuizione e dice al servo che lo teneva per mano lasciami toccare le colonne sulle quali posa il tempio perché possa appoggiarmi ad esse. Ora il tempio era pieno di uomini e di donne, c'erano tutti i filistei, i principi e le persone comuni. Dice la Bibbia c'erano circa 3.000 persone in questo palazzo, in questo momento di festa. Allora Sansone invocò il Signore dicendo Signore Dio ricordati di me, dammi forza ancora per questa volta soltanto, o Dio, e in un colpo solo mi vendicherò dei filistei per i miei due occhi. Sansone palpò le due colonne di mezzo sulle quali posava il tempio, si appoggiò ad esse, all'una con la destra e all'altra con la sinistra. Sansone disse che io muoia insieme con i filistei. Si curvò con tutta la forza e il tempio rovinò addosso ai principi e a tutta la gente che vi era dentro. Furono più i morti che egli causò con la sua morte di quanti aveva uccisi in vita. E quindi è da questo racconto che scaturisce l'espressione muoia Sansone tutti i filistei? I filistei, certo. È proprio una sorta di proverbio, di modo dire, che nasce a partire da questo episodio. Se avete capito, Sansone, in un ultimo sprazzo di lucidità, dice io ormai sono prigioniero dei filistei, però i capelli mi stanno ricrescendo, quindi mi sta tornando la forza. Sono tornato forte. Cosa posso fare? E Sansone decide di far crollare con la sua forza il palazzo facendo cadere le colonne sulle quali in quel momento si sta appoggiando. Lui muore insieme a tantissimi filistei in questa distruzione del palazzo e la Bibbia si permette di dire, dice guardate sono stati di più i morti che sono periti in quell'episodio di quanti Sansone aveva tra i nemici uccisi nella sua vita come avrebbe dovuto fare se fosse stato davvero uno dei giudici giusti di Israele, cioè condottieri, combattenti che nel corso della loro vita salvano Israele dai popoli nemici. Quindi abbiamo una situazione diciamo piuttosto complessa. Che giudizio potremmo dare della figura di Sansone? Beh, per quello che abbiamo visto finora certamente le prospettive da parte di Dio erano molto alte su Sansone. Una nascita miracolosa, una condizione quella di Nazireo come persona particolare consacrata a Dio. Di fronte a questo però Sansone ha mostrato la sua debolezza, vittima delle donne, vittima della sua stessa stoltezza. Ha cercato donne del popolo dei nemici. E in realtà anziché combattere nella sua vita e impegnarsi per Israele, Sansone, vedete, ha sempre cercato di assecondare i suoi desideri, i suoi bisogni, le sue pulsioni. Quindi non è stato un gran servitore del suo popolo e per questo certamente non possiamo dare un giudizio positivo. Ecco, in qualche modo Sansone in punto di morte sembra riscattarsi. E cioè, infatti, sono più i filistei uccisi in questo ultimo gesto di Sansone che i filistei che Sansone ha ucciso nel corso della sua vita. Quindi anche qui abbiamo un giudice particolare, diciamo il giudizio finale è quello di una ambiguità. Non è un personaggio come i primi giudici, come Gedeone, come Eud, ma è un personaggio, direi, sulla scia di Iefte, personaggio perlomeno ambiguo che ha fatto poco per il suo popolo e soprattutto ha pensato agli affari suoi, nel senso negativo del termine. Cioè, se per caso poteva aiutare Israele, lo avrebbe anche aiutato, ma prima di tutto pensava alla sua vita e alla sua volontà. Grazie a tutti.